ok e quindi questo è il primo passaggio il secondo passaggio che possiamo fare a questo punto visto come funziona è proprio possiamo ad esempio cambiare il nostro la nostra guardia se vi ricordate avevamo creato la guardia per andare a vedere se l'utente era loggato oppure no e quindi andare a modificare il path di dove doveva collogarsi lo ricordate l'abbiamo messo qui e non qua qua qui andava a prenderci dallo user service se c'è il token no se non c'era andava a fare route navigate qui possiamo usare però questo punto ngx cioè possiamo andare a usare il nostro store no quindi modifichiamo un po questo codice magari questo no questo ve lo lascio così e ve lo commento ok andiamo a definire la nostra guardia la prima cosa che dobbiamo fare come abbiamo visto prima dobbiamo farci iniettare il nostro store ovviamente dobbiamo andare importare se andiamo a vedere il nostro can activate function c'è il may be async cosa significa may be async che oltre a ritornargli una variabile state possiamo ritornare un observable e ovviamente come ormai avrete capito a me piace tantissimo ngx e quindi qui faremo un ritorno di un observable quindi cosa devo fare per fare il ritorno facciamo return store punto select di che cosa select non di is sign in ma di is authenticated punto pipe perché la pipe e adesso ve lo faccio vedere anzi non è così ma è store punto pipe select select is authenticated quindi nel cambio di stato si prende l'is authenticated e facciamo un map per andare a modificare quello che ci arriva is authenticated is authenticated andiamo a importare il map ora se l'utente non è autenticato dobbiamo fare un return in realtà questo router ci serve quindi andiamo a decommentarlo router punto navigate by url e qui facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qui quindi ecco così era senza return ok return false o vabbè non occorre possiamo tranquillamente non metterlo nell'if e fare retorno is authenticated che è già una variabile booleana quindi abbiamo cambiato la guardia usando il nostro state manager andiamo a vedere andiamo a fare una reload adesso faccio sign in e siamo logati e quindi anche la nostra guardia se adesso facciamo sign out e qui ci mettiamo ad esempio com'è la editor vediamo un po' vedete se io vado su un non ero logato e vado su di un path con la guardia mi ritorna su sign in giustamente Fabio ci dice con un tap quindi questo non serve andiamo a importare il tap e andiamo a verificare soltanto se sei logato oppure no andiamo a vedere un'altra cosa carina questo ci arriva appunto nella versione angular 17 dove c'è signal ok e ci piace un if sopra e via questo ci arriva da angular 17 perché abbiamo il signal qui invece di usare l'observable quindi di usare la sync come abbiamo fatto in questo momento possiamo fare trasformare l'isloading in to signal e trasformare questo observable in un signal quindi l'isloading in questo momento è un signal vedete me lo dice anche l'italisense a questo punto devo cambiare la nostra pagina html se la trovo eccola qui e qui la facciamo diventare una funzione ecco a questo punto abbiamo lo stesso funzionamento guardate ma usando signal accesso in corso ho scritto acceso non accesso nessuno come lo dice ho scritto acceso e non accesso nessuno in realtà che sta succedendo è andato in errore si è andato in errore f chiocciola f punto di t demo demo 1 vediamo qui è andata bene è perfetto ok togliamo via il delay di 3 secondi che se no ogni volta che devo fare l'accesso ci impiega 3 secondi perfetto quindi abbiamo avuto il primo diciamo ah si scusate prima andato in errore ovviamente possiamo qui fare anche il failure quindi qui non l'abbiamo mai fatto anzi l'abbiamo fatto quando abbiamo fatto l'http l'http client qui ci metto un catch error qui possiamo mettere error quindi vis.store punto dispatch out actions punto signing failure e qui facciamo throw new error e gli ripassiamo l'erre quindi se adesso vado a sbagliare la login andiamo a vedere andiamo a fare sign in f chioccio f punto it sbagliamo la password ovviamente non vedremo nessun messaggio però non ci fa il redirect come prima perché? perché abbiamo sbagliato la password potremmo far vedere un messaggio però lo andremo a far vedere in modo un po' più diciamo più carino questo è il primo passaggio nell'usare ngrx molto semplice in realtà però si può fare diversamente questo era per iniziare ok tutto chiaro fino a qui vi